Continuano gli allenamenti al partegno lombardico, a mister pazienza che prepara la gara di lunedì sera contro il Sorrento. I lupi vogliono ritrovare una vittoria casalinga che manca dal match contro il Cerignola. Troppo tempo per una formazione che però ha compensato in maniera sorprendente quelle vittorie esterne su campi molto difficili. Normale gestione dei carichi di lavoro per alcuni calciatori, lavoro atletico e palestra per altri. Assenti ancora Pezzella e Benedetti per i rispettivi infortuni, Armellino spera nel recupero. Intanto l'Avellino ha battuto un altro colpo di mercato, Simone Benedetti si sottoporrà di intervento chirurgico e allora Perinetti e Condò si sono cautelati con Paolo Frascatore. Primo allenamento stamattina per il Romano classe 92, arrivato ieri sera al Belsito Hotel al 22.35. Ciao a tutti i tifosi, sono felicissimo di essere qua e non vedo l'ora di iniziare. Grazie, bocca al lupo. Ciao. A fare fatto con la Turris, Frascatore vanta presenze con le nazionali giovanili azzure dall'Under 17 all'Under 21. Quasi 300 le presenze tra i professionisti tra Serie B e Serie C, esperienze all'estero con il Lausanna e tante maglie importanti vestite a cominciare dalle giovanili della Roma, passando per Ternana, Padova, Sassuolo, Triestina, Reggiana e Regina. 17 le presenze nel campionato in corso con la Turris, Frascatore darà una soluzione diversa al tecnico dei lupi. Braccetto Mancino, che sarà prezioso nella costruzione del gioco e sui palloni alti, dovrà chiaramente giocarsi il posto con i compagni che tanto bene stanno facendo. Una curiosità, Paolo Frascatore nella stagione 2015-2016 ha condiviso lo spogliatoio con Mr. Pazienza alla Reggiana, giocando insieme nei tre di difesa nel match del 7 febbraio 2016 in casa della Gianna Erminio. Altro giocatore che Pazienza quindi conosce bene. Ora, per ultimare al mercato dei lupi, la probabile uscita di Casarini per l'ingresso di una seconda punta.